Un buongiorno e benvenuti allo Stendable Paint anche oggi, Made Expo 2017. A me siamo arrivati quasi al termine di questa favolosa fiera, quattro giorni belli intensi, ma oggi ho il piacere e l'onore di presentare tutto lo staff che ha collaborato con noi qui presente in fiera. Cominciamo insomma a conoscere le varie postazioni, a scoprire chi era con noi in queste giornate e fare quindi una carellata di nomi senza interviste perché so che sono tutti un po' timidi. Quindi cominciamo a presentare la parte principale dello stand, ovviamente parliamo della zona dell'area postazioni e installazioni dove i ragazzi applicano tutto il giorno, abbiamo Marcello, Martina e Luca o Michele. Ovviamente i ragazzi come detto tutto il giorno ogni ora abbiamo un appuntamento in cui abbiamo le applicazioni simultanee, abbiamo visto in queste giornate tutti i prodotti, i nuovi bambini, i nuovi arrivati in casa Valpaint. E quindi qui cominceremo verso le ore 10 e 30 come ogni giorno. I ragazzi intanto si posizionano, cominciano a prepararsi le basi e cominciano a prepararsi tutti gli attrezzi del lavoro. Ma quando voi arrivate allo stand avete ovviamente due dolci fanciulle che vi accolgono e quindi salutiamo Loredana e Angela che sono sempre qui ogni giorno con il loro favoloso sorriso ad accogliervi e ovviamente a darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ma vicino, anzi in mezzo alle due fanciulle abbiamo la punta di diamante di Valpaint. Buongiorno Mirko, buongiorno. Assolutamente noto, sei il primo che mi dà il buongiorno, grazie. Bene, che meraviglia, io quando arrivo allo stand e trovo tutti questi sorrisi mi sento sempre a casa. Ma dopo essere arrivati qui sulla parte principale, quindi sull'accoglienza con Loredana e Angela, chi trovo ovviamente Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Come va oggi? Bene, bene, tutto bene. Ultima giornata secondo me sarà molto carica. Se le altre giorni abbiamo avuto una grande affluenza mi sa che oggi avremo proprio l'espload. Sì, siamo pronti. Siamo pronti, infatti vi ricordo che adesso lo stand è vuoto perché insomma noi giriamo e cominciamo sempre a gironzolare con il microfono nello stand quando la fiera è ancora chiusa. Ma adesso insomma entrate e seguitemi pure. Buongiorno. Questo è il nostro stand, questa è la nostra casa dove vi aspettiamo anche oggi. Ovviamente tutti i nostri pannelli con tutti i prodotti Valpanti applicati. mi ricordo che in quest'area qua abbiamo sempre comunque i nostri agenti di zona e non solo di zona ma anche agenti da tutta Italia e soprattutto il personale anche internazionale. Abbiamo visto in questi giorni Rasino, i nostri amici insomma da Dubai, dalla Francia, dall'America, insomma da tutto il mondo. Qui alle mie spalle abbiamo anche il presidente che poi vediamo se riusciamo a carpire un'intervista. Buongiorno presidente. Buongiorno. Come va? Va benissimo. Siamo pronti per questa ultima giornata? Sì, speriamo che oggi anche funzioni come le altre. Ho visto una grande affluenza in questi giorni, ho visto molto apprezzamento da parte del pubblico. Sì, infatti è stato, ha fatto molto piacere che sono venute tante gente e hanno detto che abbiamo certe belle novità che gli altri competitor non ci sono. Modestamente siamo Valpaint. Eh sì, già è sì, sì, sì. Questo fa sempre piacere, no? Sentirsi questo. Assolutamente sì, infatti abbiamo avuto un ottimo riscontro anche per le novità presentate, i nuovi arrivati, gli ultimi bambini in casa Valpaint. Parliamo anche del cemento e tutte quante queste applicazioni che i ragazzi stanno facendo sempre tutto il giorno. Bene. Andiamo avanti in questa strada con tutta la struttura della Valpaint e con tutti i collaboratori, cresciamo sempre di più. Assolutamente, Presidente. Io non la disturbo e continuo la presentazione dello staff Valpaint. Le auguro una buona giornata e ci vedremo tra poco. È tanto che lei riusci. Grazie. Eh sì, siamo riusciti a capire qualche domanda, ho potuto avere qualche risposta, sono felicissima, non ci contavo. Siamo arrivati in un'altra zona molto molto importante dello stand, è un po' nascosta, ma perché solo qui arrivano le persone più interessate. Parliamo del desk, desk accoglienza con Larissa e Raffaella che sono qui a disposizione per dare tutte le informazioni del caso e soprattutto per consigliare il rivenditore più vicino a caso. Ovviamente le ragazze con un semplice clic possono trovare l'indirizzo del rivenditore più vicino a casa vostra, stamparvelo e darvi l'informazione più importante. Questa è la nostra casa, ma vorrei presentare per ultimo, che voi non lo vedete, però io lo vedo perché mi sta seguendo tutti i giorni, vorrei salutare anche Stefano, ovviamente adesso non giurare la telecamera ma c'è una persona che sta riprendendo. Detto questo, questa è la nostra casa, questo è il nostro stand, questi qua sono i nostri pannelli, questa qua è la nostra realtà. Vi aspettiamo anche oggi, ultima giornata del MAD Expo 2017, sempre qui allo stand Valpaint. Grazie a tutti.